Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomini. Oggi con grande piacere, ringraziamo per aver accettato il nostro invito, abbiamo ospite Marco Grigoletto, presidente Anef Veneto. Buongiorno Grigoletto. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Anef, associazione nazionale esercenti funiviari del Veneto, di cui lei è presidente già da qualche anno. Grigoletto, ci eravamo visti quest'estate per un numero di Dolomiti e Turismo incentrato ovviamente sulla stagione estiva. Adesso veniamo all'inverno, posto che credo sia prematuro fare tempo di bilanci, nel senso che auspichiamo che la stagione possa andare avanti a lungo. Addirittura si parla di il primo maggio, tradizionalmente in Falorie, piuttosto che a Rabba il 21 aprile. Allora, fino adesso vediamo i numeri, insomma sono evidentemente positivi a quello che vediamo noi, è effettivamente così? C'è un turismo in crescita per questa stagione negli impianti funiviari del Veneto? Beh, direi proprio di sì. Il turismo nel Veneto, soprattutto quello invernale e quello dello sci, è nettamente in crescita in tutte le aree. Devo dire che, essendo presidente di ANEF Veneto, valutando anche l'area di Asiago, abbiamo visto che, pur con pochissima neve, c'è un turismo dello sci che sta continuamente aumentando, se andiamo a prendere, diciamo così, le aree più in basso. Se invece saliamo di quota e andiamo nei 4-5 comprensori grandi che abbiamo qui nel Bellunese, notiamo che la presenza comunque degli stranieri è altissima, in questo periodo soprattutto, ma in generale. e questo ha portato a una rivalutazione del prodotto Sci-Dolomiti, chiamiamolo prodotto Sci-Dolomiti, che è molto positiva e anche quest'anno siamo su valori che sono superiori a quelli dell'anno scorso, che è stata la stagione migliore di sempre. Direi in linea di massima per il momento sul 6-7% in più, come passaggi sto parlando, e quindi noi siamo molto soddisfatti. Ci sono delle problematiche che stiamo affrontando in questo periodo, ma siamo soddisfatti. Ecco, le problematiche in questo periodo, mi chiedo, Ghirgoletto, e le chiedo, è evidente un inverno anomalo, alte temperature, scarse precipitazioni, e noi ci chiediamo se non ci fosse stato l'innevamento programmato. La domanda è questa, in futuro, con inverni così, il futuro dello sci ha le quote relativamente basse, ovvero fra i 1000 e i 2000 metri, quale sarà? Io non ho la bacchetta magica per vedere il futuro, però è chiaro che c'è il clima che sta cambiando, questo è una cosa ormai risaputa. Credo però che questi cambiamenti climatici producano delle azioni, diciamo, sulle precipitazioni, che sono abbastanza strane, cioè abbastanza particolari, nel senso che si verificano quasi sempre degli eventi estremi, più che una nevicata di un metro in una settimana, adesso abbiamo una nevicata di un metro in due giorni. E questi eventi estremi, per noi, da un punto di vista della preparazione delle piste e per la sicurezza dei sciatori, sono un problema, perché appunto, avendo un evento breve, con moltissime precipitazioni, questo risulta un problema. È chiaro che, d'altro canto, risulta un problema anche quando abbiamo, come in questo periodo stranissimo, che le temperature sono molto alte e si crea una neve primaverile. C'è da dire che la preparazione con l'innevamento programmato crea una maggiore densità della neve, ribadisco che non ci sono additivi, è solo una questione di mistura aria-acqua, crea una densità della neve maggiore e questa resiste anche alle alte temperature. Questo a noi, diciamo, fa molto comodo, perché anche in questo periodo abbiamo visto che dai 1.400 metri in su si può tranquillamente sciare. È chiaro che queste temperature così elevate, magari in zone come in Nevegall, o come Forza Laurini o come in Monte Avena, le nostre aree belunesi con caratteristiche sociali che secondo me personalmente dobbiamo mantenere per avere un posto dove le famiglie possano far imparare i bambini a sciare perché sono i nostri clienti del futuro. In queste aree si verifica invece una situazione in cui, purtroppo, anche per un'economicità delle stesse aree, molte volte sono costretti loro a lasciare chiuse le piste. In tutto il resto, diciamo, dei nostri comprensori, compreso gran parte dell'Alto Piano di Asiago, siamo aperti e siamo funzionanti e la stagione sta andando molto bene. Ecco, ci parlava di economicità, ovvero, deve essere chiaramente, si tratta di società di impianti risalita, devono avere i bilanci in ordine. Allora, i contributi, Grigoletto, contributi europei piuttosto che italiani, ce ne sono stati, ce ne sono, ce ne saranno per sostenere anche l'economia della montagna perché voi, insomma, come esercenti funiviari siete il perno di tutto quello che è il sistema turistico poi che ruota intorno, no? Sì, noi è evidente che siamo il primo anello dell'economia montana in questo momento. In questo momento, peraltro, non è pensabile che se ne dica di poter rinunciare a una stagione invernale per una qualsiasi tipo di riconversione della montagna in qualcosa di diverso perché l'economia dello sci in questo momento crea lavoro, crea indotto, faccia conto che un euro speso in uno ski pass sono almeno altri 7 euro di indotto per il territorio, quindi noi in questo momento stiamo lavorando e stiamo investendo molto con l'aiuto anche dello Stato e della Regione Veneto in questo caso, ma anche dello Stato centrale perché il Ministro Santanchè ha recentemente emanato un bando in cui sono entrati diversi impianti della provincia e è stato un bando che concede i contributi molto elevati anche fino all'80% della spesa. È chiaro che noi con gli investimenti che facciamo, che sono elevatissimi, dobbiamo in qualche maniera avere un aiuto dallo Stato e dalla Regione Veneto. La Regione Veneto invece, lo Stato ci ha aiutato rispetto a quella che è la sostituzione di impianti in questo momento. La Regione Veneto non più tardi dell'anno scorso ha emanato un bando invece sulla sostituzione dei battipista che ricordo per noi un battipista costa circa 590 mila euro, quindi l'uno. Sono spese enormi, sono belli da vedere, però hanno dei costi enormi anche di manutenzione che per noi è un investimento. La Regione Veneto, come dicevo, ha emanato questo bando sia per i battipista sia per lo sviluppo degli impianti di nevamento e ci sta aiutando in questo senso. Quindi noi abbiamo due vie in questo momento, che sono quella della Regione Veneto che ci aiuta molto nello sviluppo di tutto quello che è l'area di nevamento e battitura di piste e Stato che ci aiuta invece in quello che è ad esempio la revisione di impianti perché noi non è che puntiamo molto a costituire nuove linee che vanno a fare cose nuove puntiamo invece a cercare di rendere più efficienti gli impianti che già abbiamo e mantenere le linee che abbiamo, ma ricordo che una revisione di una funivia costa circa 2 milioni. Fare un impianto funiviario, ormai anche una seggiovia a 6 posti, diciamo, nella normalità per il cliente, per noi è un costo minimo che è intorno ai 7,5 milioni per cui sono investimenti che partono da lì e vanno in su poi con le funivie, con le gabinovie per cui sono investimenti molto elevati e chiaramente anche se non possiamo lamentarci dei fatturati ma dobbiamo comunque fare degli investimenti che superano a volte, magari di 2-3 volte quello che è il fatturato annuo di una società che non è l'impianti investimenti. Ecco, accennava a finanziamenti europei piuttosto che italiani o regionali. Ecco, la riflessione mi viene in mente, vorrei girarla a lei tramite la sua competenza. Una piccola società però può sostenere un investimento che sia al 50%, cioè più alta è la percentuale di finanziamento pubblico più è la possibilità che un piccolo comprensorio possa sostenere tali ingenti investimenti, giusto? Sì, in effetti è stato anche così, soprattutto con il bando nazionale a cui hanno potuto accedere anche aree molto piccole, chiamiamole così, e molto più sociali. È chiaro che in una qualche maniera noi queste aree dobbiamo cercare di mantenerle, almeno fin quando sarà possibile, nel senso che l'aiuto pubblico soprattutto per queste aree secondo me è indispensabile perché noi non possiamo pensare che almeno nei prossimi dieci anni dobbiamo cancellare delle zone come Monteavena per dire che crea un indotto per tutta la Vabelluna per i bambini che imparano a sciare perché evidentemente è vero anche il Civet ha dei buoni sconti ma sicuramente i costi sono maggiori, le distanze sono maggiori, soprattutto anche per le persone ad esempio che vengono da Vittorio Veneto con gli altri viso e che vogliono andare al neve, sarebbero più comodi, sono più comodi e sono anche, queste aree secondo me sono anche una zona d'ingresso, una porta d'ingresso verso aree più grandi che poi le persone poi quando hanno imparato diciamo così la pratica dello sci possono andare e allora sì possono sfruttare le aree più grandi e evidentemente più costose perché lo sci costa. Eh certo, lo sci costa anche perché necessitate di personale un aspetto credo rilevante, è possibile quantificare quanti sono gli operatori negli impianti di risalita in tutto il Veneto, Grigoletto? Sono circa 900, certamente che almeno 350 vengono da fuori regione e questo è un grosso problema che noi abbiamo in questo momento, un grosso problema che per ora tamponiamo diciamo così, tamponiamo anche con l'aiuto di persone che sono magari andate in pensione da poco tempo che comunque ricontrattualizziamo e li riportiamo a fare il lavoro dell'impiantista. È chiaro che nei prossimi anni noi dovremmo sviluppare una strategia che ci permetta di poter acquisire delle persone e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di intanto far vedere che è un lavoro perché secondo me questo non si vede ancora, no? Perché l'utente va a utilizzare l'impianto non capisce, cioè non capisce, vede che c'è qualcuno che ci lavora ma non capisce il tipo di lavoro che fa e questo è una cosa che noi dobbiamo fare perché noi paghiamo bene, paghiamo molto bene è un lavoro che dà delle soddisfazioni perché c'è una possibilità di carriera quindi fare il macchinista, iniziare facendo il macchinista, venire a lavorare sui nostri impianti imparare quello che è tutta la parte impiantistica di un impianto magari anche da zero magari anche adesso che alcuni stanno facendo gli investimenti e li stanno costruendo e li fanno da zero anche questo può essere un'opportunità per un giovane che vuole imparare e poi potrà gestire quell'impianto se lavora per noi potrà gestirlo diventando macchinista e poi magari diventando capo servizio e quando una persona è capo servizio da noi vi assicuro che gli stipendi sono molto buoni ecco chi lo ha detto però è sempre un lavoro stagionale, si verrebbe da pensare ipoteticamente quindi nonostante la destagionalizzazione, parliamo allungamento della stagione invernale si anticipa quella estiva quindi di fatto l'apertura degli impianti per ben oltre i sei mesi dell'anno però punto di domanda è un lavoro prettamente stagionale quello dell'impiantista? direi di sfatare questo mito è no, nella maggior parte non è un lavoro stagionale nella maggior parte è un lavoro anzi che noi rendiamo continuo e quindi a tempo indeterminato perché? Perché durante l'estate noi facciamo tutte quelle lavorazioni di mantenimento di impianti per la sicurezza dei nostri utenti che servono e che durano effettivamente tutta l'estate perché revisionare magari una seggiovia, revisionare una gabinovia, una funivia sono lavori lunghi poi c'è tutta la manutenzione che riguarda i battipista che anche quelli hanno bisogno di una manutenzione abbastanza lunga per cui direi di no, direi che un giovane che abbia voglia di vivere del nome montagna che aveva voglia di vivere nello sci, la neve e lavorare sugli impianti ha delle prospettive per un lavoro a tempo indeterminato senza alcun dubbio Certo, ci sono delle scuole specifiche, Grigoletto, oppure degli indirizzi suggeriti che poi possono attrarre quelle che sono la vostra richiesta di giovani magari da avviare il lavoro dell'impiantista? Allora l'indirizzo specifico non c'è chiaramente sugli impianti e fune ma con una preparazione elettrotecnica o di robotica quella può essere una preparazione adeguata per poter iniziare a imparare questo nuovo lavoro Noi quest'anno pensiamo di organizzare degli incontri nelle scuole pensiamo anche di contattare la Regione Veneto e magari sentire anche l'assessore Donazan per capire se è possibile integrare magari un corso specifico in una scuola professionale magari in quarta o in quinta o in terza integrare un corso specifico per impiantisti all'interno di scuole professionali già attive perché dobbiamo cercare anche, come ripetevo prima, di far conoscere questo lavoro che secondo me molti non conoscono e non sanno delle prospettive che possono avere La ringraziamo perché seppur nel breve tempo lei ci ha dato le indicazioni utili appunto seguiremo con molto interesse gli sviluppi di quello che avete in programma, in mente di sviluppare per il prossimo futuro per avvicinare il giovane mestiere dell'impiantista che come ci ha fatto capire lei è un mestiere che può dare grandi soddisfazioni Allora Grigoletto abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro Grazie, grazie a lei e ai telespettatori A voi tutti, grazie per la gentile attenzione, arrivederci alla prossima settimana con Dolomiti Turismo